Una santa messa in un'atmosfera di festa per far vivere il più possibile lo spirito natalizio agli anziani ospiti dell'Oasi San Francesco, centro residenziale di riabilitazione sanitaria. Ad ufficiarla Monsignor Franco Alfano, arcivescovo di Sorrento Castellammare. Anche quest'anno, che oramai la fine dell'anno è quasi alle porte, siamo riusciti nell'intento di avere tra noi l'arcivescovo Monsignor Francesco Alfano, che oramai come della tradizione ci tiene ad essere presente proprio per dare l'agurio e la benedizione ad ogni singolo ospite della nostra struttura. Ci tengo particolarmente anche quest'anno a ringraziare tutto il nostro staff, la direzione sanitaria, la direzione amministrativa e soprattutto il personale dipendente che ogni giorno cerca di fare il meglio per far stare bene i nostri ospiti e in questo caso far sentire il Natale anche all'interno della struttura. Come di consueto in queste festività natalizie ci tenevamo a fare i nostri auguri a tutti gli utenti della nostra struttura, così come ogni anno ci onora di fare il Vescovo Monsignor Alfano. E' qui con noi per portare ancora una volta, come da tradizione ventennale della nostra struttura, il Natale all'Oasi. Anche quest'anno abbiamo acceso il Natale all'Oasi, l'abbiamo acceso, ci crediamo per tutte le persone sole, sofferenti, per la disperazione che c'è in giro. Tutto questo non ci deve scoraggiare, noi amiamo la vita e anche dietro un vecchietto claudicante che può sembrare nulla e si sente inutile, gli dobbiamo dare il coraggio che è una risorsa. L'incontro con gli anziani è uno dei momenti più intensi, non solo nella missione di un Vescovo, e io lo vivo così, ma nella vita, credo, di ogni persona. E oggi dovremmo recuperarlo un po', perché la nostra società corre il rischio di metterli un po' da parte. Allora, incontrarli in una struttura come questa, che cerca di metterli invece al centro delle attenzioni, perché siano accompagnati, sostenuti, non solo curati, ma anche proprio aiutati a vivere questa fase delicata e molto particolare della loro esistenza nel modo migliore, significa riscoprire le radici della nostra umanità. È un bel gemellaggio che unisce la nostra scuola con quest'istituzione, l'Oasi Francescana, ma soprattutto anche l'accoglienza dell'anziano. Veniamo per la festa dei nonni, veniamo nelle occasioni di festa per rialletare un pochino le giornate di queste persone più anziane che sono contente di stare vicine ai nostri bambini.